Sonde toroidali flessibili e universali FLIR TA72 e TA74, i nuovi accessori ergonomici che aggiungono flessibilità, rapidità e valore al tuo attuale strumento per acquisire misure migliori e più accurate. Con un toroide flessibile e sottile invece della classica pinza con gioco rigido, TA72 e TA74 si flettono e aggirano tutti gli ostacoli per misurare facilmente in spazi ristretti o difficili da raggiungere. Dotati di connettori a banana standard, TA72 e TA74 sono compatibili con la maggior parte dei multimetri digitali e delle pinze amperometriche indipendentemente dalla marca. Convenienti ed efficienti, questi accessori semplificano le ispezioni e sono più maneggevoli che mai. Gli illuminatori a doppio LED aiutano a vedere negli spazi bui ed eliminano le ombre. Scegli tra due lunghezze del toroide, la TA72 da 10 pollici e la TA74 da 18 pollici. Questa è la vera flessibilità. Sonde toroidali flessibili e universali FLIR TA72 e TA74. Integrazione della generazione di strumenti di misura e test da FLIR.